Quando vuoi accendere una candela, trovi solo accendini scarichi o fiammiferi che non funzionano. Intergross ti presenta Color Chandlers e non ti ustionerai più le mani. Sono fatte di vera cera e emanano anche un delizioso profumo di vaniglia. Grazie alla tecnologia LED potrai evitare di accendere fiamme pericolose nelle varie stanze della tua casa. Le luci a LED sono sicure e non creano macchie nere sui muri o sul soffitto. Potrai accendere e spegnere semplicemente con un telecomando in 12 bellissimi colori. Inoltre sarai tu stesso a decidere se le candele devono spegnersi automaticamente dopo 4 o 8 ore. Eviterai sprechi di energia lasciando ovunque in casa la giusta atmosfera a lume di candela che piace a te. Essendo fatte di vera cera, le Color Chandlers della Intergross non si distinguono dalle altre candele. Decidi tu se ne vuoi una, due o tre, tutte dello stesso colore o ognuna di colore diverso. Sistema le Color Chandlers dove vuoi tu. A creare la giusta atmosfera in casa ci pensano loro. Avrai tutti i vantaggi delle vere candele ma senza i loro pericoli. Usale dove vuoi nel colore che più preferisci. Cosa aspetti? Crea l'atmosfera giusta a lume di candela nella tua casa. Cosa aspetti? Grazie a tutti.